Rimaniamo in tema Covid. L'emergenza attuale, come ripetiamo ormai da tempo, non è solo sanitaria ma anche economica e sociale. In questo periodo di festività proliferano le raccolte di beni alimentari, ma l'attuale povertà non può e non deve limitarsi al cibo. Marilena Pastore ha raccolto l'appello lanciato da Don Geremia Acri, responsabile di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti della Diocesi di Andria. Sentiamo. Ci troviamo nel cortile di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti della Diocesi di Andria. È un luogo che abbiamo imparato a conoscere, abbiamo tante volte attraversato durante la nostra attività quotidiana, giornalistica quotidiana, per informare su quello che accade, per dare voce, come diciamo sempre, a chi non ha voce. Siamo in compagnia di Don Geremia Acri, responsabile di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti. Don Geremia, questo è il periodo in cui si moltiplicano gli appelli alla solidarietà, alla carità, ma molto spesso quello che registriamo in questo momento è un ricorso probabilmente eccessivo a quelli che sono i beni di prima necessità. La solidarietà ovviamente non ha, come dire, è sempre qualcosa per cui ringraziare, però è importante anche educare alla carità. La solidarietà è importante e chiunque la fa va ringraziato, il grazie va detto sempre, però non ci può essere nel nostro contesto, in questo periodo e nel nostro mondo occidentale opulento, non ci può essere la corsa al dono dei pacchi alimentari, perché è qualcosa che non si può più sentire, non si può più vedere una cosa del genere. Certo abbiamo dei poveri che non possono mangiare, ma sono pochi, ma oggi gli impoveriti hanno bisogno di altro, hanno bisogno di rispetto, di dignità, hanno vergogna. Gente che fino a qualche mese fa poteva permettersi di vivere una vita normale e di poter comprare anche al proprio bambino la brioscina o lecca-lecca al bambino di 5 anni che fa i capricci. E i genitori sanno cosa vuol dire quando un bambino fa i capricci. I bambini non hanno consapevolezza, quindi questo dono forse è nato a dare pacchi alimentari, ma io cosa sono? Un pacco di pasta, un barattolo di pelati, uno scatolo di tonno e basta. E poi l'altro, mi manca il pane, mi manca la possibilità di pogarre le bollette, forse mi manca la possibilità dell'auto per poter raggiungere il mio posto di lavoro, mi manca il lavoro. Allora basta con questo dare pacchi alimentari, bacchi alimentari. Non sarebbe anche più giusto, più dignitoso, più liberante, dando autonomia, dando le persone a chi ha bisogno di fare la spesa dei buoni spesa, educandole anche al corretto uso. I poveri non vanno imprigionati, gli impoveriti conoscono il valore dell'autonomia, della indipendenza, della libertà, della possibilità di scegliere. La solidarietà, voglio dire una cosa prima, la carità è qualcosa che va oltre il welfare. La carità è una relazione amorosa, l'altro non è un virus da combattere e da nientare, l'altro mi appartiene, c'è una relazione che va instaurata. La solidarietà poi è inseparabile dalla giustizia e dalla verità e comporta delle decisioni, sia dal punto di vista ecclesiale, perché anche la Chiesa ha questa mania di fare pacchi alimentari. Dobbiamo guardare in avanti, dobbiamo essere lungimiranti. Comporta, dicevo, decisioni, scelte, azioni che vanno nella direzione della necessaria e indispensabile equa distribuzione dei beni. Quindi cosa risolve oggi la povertà? È il lavoro. Nella mia città sono arrivati un milione, quasi un milione, di buoni alimentari. Ma scusatemi, nella prima ondata altri soldi, in tante città italiane. Con questi soldi quanti posti di lavoro si potevano creare? Non sono un competente, non sono un esperto. Quindi dobbiamo un attimino guardare la nuova povertà e i nuovi impoveriti e cercare di risolvere il problema dei poveri e non tenere i poveri perché posso esercitare il potere e mi danno consenso elettorale.